ciao a tutti roberto proviamo pandino meccanicamente è meccanicamente concluso che onore andiamo a vedere chi lo sa chi lo sa chi lo sa cosa fa ci diamo un po' d'aria va primo colpo grazie abbiamo fatto tutto sembra che va anche abbastanza bene proviamo a togliere l'aria permettiamo un po' d'aria va ricordiamo che questo mezzo è a carburatori quindi c'è ancora un po' da regolare quello che è e senza il filtro dell'aria perché stiamo facendo ancora delle prove meccaniche ma come prima accensione mi sembra anche molto buono ce l'abbiamo fatta ragazzi bene ci sta come prima accensione ci sta dai purtroppo come vedete non abbiamo ancora finito non abbiamo ancora finito non dobbiamo ancora far tutto quindi continueremo ma non finisce qui adesso vi faccio vedere anche tutta la parte della tela istica 4x4 andiamo a vedere ecco qua abbiamo praticamente ancora da finire tutto adesso ve la faccio vedere anche alzata tutta smontata ancora ragazzi tutta smontata e che è che è che 4x4 deve essere ancora montato cuscinetti non cuscinetti grassi non grassi oli va finita ancora però la meccanica siamo a buon punto ragazzi come sempre seguitemi sui miei social Roberto Goddini Channel Youtube Instagram Facebook e TikTok grande panda